E per il 150esimo a Gandino c'è ancora un appuntamento? Sì, effettivamente quest'anno abbiamo cercato di rappresentare, di manifestare degnamente con una serie di iniziative il pensiero, l'idea, quello che è stato lanciato dal Presidente della Repubblica come anno importante di coesione nazionale ragionando con iniziative che noi sempre come amministrazione comunale cerchiamo di abbinare ai momenti culturali quindi cercare di abbinare cultura a tutte le nostre iniziative che vogliono essere feste civili in particolare il 9 di dicembre ci sarà questa serata che abbiamo chiamato Uniti e Solidali è proprio una marcord che andremo a fare con tutte le associazioni di volontariato del nostro paese che in questi 150 anni ovviamente abbiamo un po' di documentazione anche storica degli anni 20, degli anni 30 ma anche del 1861 appunto che hanno dimostrato come i gandinesi siano state sempre delle persone attenti alla solidarietà e attenti alla loro nazione, alla loro popolo. Servalli quindi, chi interverrà? Di fatto noi abbiamo chiesto a quelle associazioni di volontariato rappresentative di raccontarci questo loro continuare ad essere uniti e solidali, questo loro impegno di solidarietà che sono appunto gli alpini per tutte le loro iniziative che anche in occasione di calamità fanno il gruppo antincendio boschivo dal Val Gandino che ha sede appunto a Gandino che anche loro in questi anni si sono impegnati tantissimo per la tutela e per gli interventi in occasione di calamità e il gruppo animale cortile che è un gruppo di giovani che hanno continuato e continuano a manifestare con fatti concreti, gesti concreti, non ultime le raccolte per il terremoto dell'Aquila a raccontarci e raccontare quello che si può ancora fare per la solidarietà. Tutti assieme poi festeggeremo con un momento appunto di ricordo e a tutti verrà consegnato una targa di riconoscimento, una pergamena per il loro impegno.